Colpi di arma da fuoco esplodono nella mattinata odierna in via Piave nel bel mezzo del centro cittadino del comune di Agropoli. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine nella sparatoria è rimasto coinvolto un uomo di 35 anni di capaccio RC che è arrivato con diverse ferite all'opsaut della cittadina agropolese. L'uomo era in macchina con la sua compagna quando è stato affiancato da un'altra auto con all'interno due uomini di cui uno dei due ha sparato due colpi di arma da fuoco colpendo l'avambraccio esterno e il fianco sinistro del ragazzo. Nonostante le ferite il giovane è riuscito a guidare fino all'opsaut di Agropoli dove ha ricevuto le prime cure e poi allertato l'elisoccorso è stato trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli. Al momento le sue condizioni sarebbero gravi. I carabinieri della compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Francesco Manna stanno interrogando la compagna dell'uomo che ha assistito alla scena. Inoltre nuovi particolari sembrano collegarsi con l'episodio avvenuto nei pressi del Palazzo Civico delle Arti al porto turistico alle ore 3 di questa mattina dove un'auto Ford Fiesta è stata incendiata. Ad omare le fiamme ai vigili del fuoco del distaccamento di Eboli coordinati dal caposquadra Coviello. La vettura risulterebbe di proprietà della compagna DRC. Sono in corso le indagini per chiarire i motivi del folle gesto.